Musica Gestione dei rifiuti ed economia circolare, i temi al centro dell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana. L'assessore all'ambiente Monia Monni riferisce in aula sugli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interessi a realizzare impianti. Sono 39 le proposte arrivate, 32 già con i requisiti richiesti da parte di soggetti privati. Ad oggi, ricorda l'assessore alla Toscana, ricorre alle discariche ancora per il 34% dei rifiuti. Il nostro obiettivo è arrivare ad una soglia del 10%. Partirà adesso la fase di valutazione per arrivare poi al nuovo piano dell'economia circolare. La comunicazione dell'assessore ha alimentato il dibattito tra le forze politiche in Consiglio che al termine hanno approvato la risoluzione di maggioranza. Per il PD il metodo seguito è quello giusto, nel merito... Queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, che noi abbiamo richiesto come Consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana, in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anche essi noi avevamo chiesti, per due motivi, perché c'è un bilancio ambientale da rispettare e i rifiuti con più vanno in giro, vengono trasportati e più questo bilancio non è ambientalmente sostenibile. E l'altro aspetto che dobbiamo evitare è che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce. Però le proposte riguardano un po' tutto il territorio. L'altro aspetto che noi abbiamo richiesto e che anche oggi abbiamo rinnovato all'assessore è quello di costruire con i territori, con le istituzioni locali, il consenso alla realizzazione di questi impianti che comunque vengono dal territorio, non sono stati pensati dalla regione in un ufficio e poi trasferiti invece sui territori. Tutto questo fa sperare che il percorso possa proseguire con tutte le difficoltà che non ci sfuggono ma anche con la potenzialità di una buona riuscita perché la Toscana possa avere impianti che chiudono il ciclo dei rifiuti in termini di autosufficienza sia per quanto riguarda quelli derivanti da solidi urbani ma anche per quelli delle aziende altro aspetto importante che abbiamo noi sollevato e lo si possa fare con impianti anche di nuova generazione. Positivo, dice Italia Viva, che ci sia un confronto trasparente. Noi chiedevamo trasparenza a livello di condivisione delle pregettualità che emergono in Toscana auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti ma nel contempo diventa un piano industriale dell'energia toscana un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese possa ridurre le tariffe dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia ma che nel contempo vuole essere green ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati non più un problema ma una risorsa. Negativo invece il giudizio del Movimento 5 Stelle, la politica non decide e si affida ai privati. Ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia che è quello che tratta i rifiuti a valle quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati e mi riferisco ai gasificatori, pirolizzatori che comunque hanno emissioni di sostanze nocive e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. Anche le forze di centro-destra parlano di procedimento non all'altezza. Perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi leato si tracciò le treato sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti. E anche in questo caso facendo questa manifestazione di interessi, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti di rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana. E questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati, su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti, però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti. Addirittura vediamo che ci sono sei impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono due barra tre. Quindi questo modo di procedere noi non l'abbiamo capito. Noi abbiamo sempre detto che la legge 69, che è quella che regola il piano dei rifiuti, andava rivista in toto e quindi siamo dell'idea che questo percorso, che non sappiamo quanto durerà, perché anche la fase transitoria è importante, perché questo elemento oggi ci fa fare poca differenziata perché è quello che stiamo facendo. Abbiamo la seconda tariffa più alta d'Italia, ma soprattutto esportiamo i nostri rifiuti anche fuori regione e all'estero. Avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo due proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo, ma oggi l'assessore torna a darci il resoconto non troppo dettagliato di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti, che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia, ma soprattutto c'è bisogno di impianti perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi, i comparti produttivi sono in difficoltà, i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti della Tari. Purtroppo, soprattutto chi ci rimette di più sono le nuove generazioni, perché continuiamo in Toscana a sotterrare bene il 34% dei rifiuti in discarica, perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione, a una delle regioni più importanti del mondo, un piano dei rifiuti degno di questo nome. E non c'è nemmeno oggi il termine, cioè il tempo, entro il quale i nuovi impianti della cosiddetta economia circolare saranno pronti. Per il gruppo misto siamo lontani da un vero e proprio piano di gestione dei rifiuti. Una gestione dei rifiuti che naturalmente sconta, e questo l'ha detto anche l'assessore chiaramente, un gap infrastrutturale che è frutto di mancate scelte di decenni e che oggi attraverso una procedura che è anomala si cerca di colmare. Ed è anomala perché? Perché anziché partire da un dato che è quello dei fabbisogni territoriali e quindi di capire esattamente all'interno dei singoli territori qual è la capacità e quindi la necessità di smaltire, oggi si parte da una logica diversa. Si chiede agli investitori sostanzialmente di risolvere il problema. Questa è la fotografia delle disponibilità a replica del consigliere Gazzetti del PD. Adesso inizia la fase vera e propria di valutazione. Ci sono questioni ovviamente che meritano di essere approfondite. Conosciamo perfettamente quali sono gli orientamenti e anche le volontà, le sensibilità presenti sui vari territori. Da oggi in poi ci saranno fasi di valutazione delle tecnologie, ci sarà poi anche un ricorso a un allargamento dello strumento della VAS. Insomma questa comunicazione è servita per rendicontare la conclusione e l'esito del bando e adesso si apre tutta un'altra fase che servirà a entrare nel merito. Anche il Consiglio regionale della Toscana conferisce la massima onoreficenza al milite ignoto, il gonfalone d'argento, a riceverlo Rosario Aiosa, generale in congedo dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'oro al valor militare. La cerimonia di conferimento a Palazzo del Pegaso in una sala del gonfalone gremita dalle massime autorità militari, da numerosi sindaci toscani e consiglieri regionali. Una iniziativa che ha coinvolto tanti comuni italiani. Nella nostra regione 146 su 273 hanno conferito la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Io lo ritiro semplicemente, il premio è stato conferito al milite ignoto in occasione del centenario della traslazione da Aquilei a Roma che è avvenuta nel 1921. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto appunto il centenario e le manifestazioni commemorative messe in piedi dalla difesa e da chiunque altro abbia voluto ricordare questo evento proseguiranno e si concluderanno il prossimo 4 novembre. Quindi 4 novembre 2021, 4 novembre 2022. Nell'ambito di questo progetto che abbiamo promosso come gruppo medaglie d'oro insieme, ci tengo a sottolinearlo, insieme a Lanci perché senza il sostegno del Lanci il nostro progetto non sarebbe nemmeno partito, consiste, è molto semplice, nel proporre a tutti i comuni d'Italia, che sono 7.905, proporre a tutti i comuni d'Italia di valutare l'opportunità di conferire la propria cittadinanza onoraria al milite ignoto e per questo motivo l'abbiamo chiamato milite ignoto cittadino d'Italia. Siamo a un punto importante, visto che manca ancora qualche mese, 4.300 comuni hanno già conferito, tra questi ci sono praticamente tutti i capoluoghi di regione, il 90-95% dei capoluoghi di provincia. Un aspetto importantissimo che io ci tengo molto a sottolineare è che la quasi totalità delle deliberazioni sono state approvate all'unanimità dai consigli comunali. Per noi è veramente un risultato, per certi aspetti mi viene da dire scontato, nel senso che il milite ignoto è già cittadino d'Italia dal 1921. Però certo, questo fatto di aver avuto questo riscontro da parte di così tanti comuni, insomma conferma che la nostra intuizione era corretta. Cento anni fa le nostre ragazze e i nostri ragazzi combattevano con altri ragazzi e altri ragazzi dei paesi europei vicini e le trincee ci dividevano. Nel tempo c'è stato l'Erasmus, c'è stata la possibilità di non far vedere più il passaporto passando da uno stato all'altro, c'è stata l'Europa che ha portato la pace e quella pace è frutto anche purtroppo di queste guerre e delle centinaia di migliaia di morti che hanno messo la loro vita a disposizione della libertà di ciascuno di noi. Purtroppo però nel cuore dell'Europa ancora oggi si sta combattendo per questa libertà e allora oggi conferire il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento al milite ignoto è un modo con cui noi diciamo e non vogliamo voltare la faccia all'altra parte, che vogliamo ricordare quelle donne e quegli uomini che ci hanno donato la libertà e che la libertà è come un fiore ma innaffiata sempre, giorno dopo giorno. Un percorso e una proposta che ha visto concorde tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il massimo riconoscimento che può dare la regione toscana è consentitemi, ho un po' di emozione perché ho l'orgoglio di essere stato tra coloro che più hanno voluto questa iniziativa, in un momento tra i più delicati della nostra storia, ricordare quello che è stata la prima guerra mondiale, il sacrificio del milite ignoto, una storia che abbiamo vissuto con il passaggio del treno nel nostro territorio lo scorso anno e che abbiamo tutti nel nostro cuore. occorre tenere alta la memoria perché con la memoria e con il rispetto dei valori possiamo avere un futuro prospero. Sì, è un momento complicato e nei momenti complicati è ancora più importante essere uniti e dare comunque atto di quello che è successo anche negli anni, nei decenni, nei secoli scorsi. L'Italia si è costruita con il sacrificio di tanti, soprattutto con il sacrificio di tanti militi ignoti che appunto hanno dato la vita perché ci fosse una patria, ci fosse una nazione unita dalle Alpi fino in fondo allo stivale. Quindi il gesto del Consiglio regionale della Toscana è un gesto oggi molto importante, molto forte, molto significativo che va appunto nella direzione di riconoscere una patria, una nazione, un comune sentire, un comune ideale che sono appunto i pilastri su cui l'Italia si è fondata. Grazie a tutti.